Buona domenica a tutti ragazzi, sono Nomadino e bentornati sul mio canale con un nuovo episodio delle Top 5 Plays of the Week siamo tornati con un episodio finalmente nuovo in quando sono tornato dal mare ed oggi potete vedere le clips che mi avete mandato anche nell'ultima settimana siamo subito in quinta posizione, troviamo Virtuality penso sia, che gioca con il Weevil su Combine e fa una strage davvero clamorosa, fa una 7 on screen di nemici senza neanche avere il Visat attivo quindi è stato comunque una bella clip per quanto fosse su dominio veterano, se di fatto che senza Visat ha fatto una 7 on quindi complimenti, quinto posto meritatissimo in quarta posizione ragazzi troviamo una clip un po' più lunghetta, troviamo ACP Shock che sta giocando su GDA e davvero ci fa una strage clamorosa e bellissima in quanto lui riesce a passare dalla prima pistola che è l'MR6 fino più o meno mi pare allo Sheiva o l'M8 in pochissimo tempo, una cosa come 30 secondi, fa davvero tantissime uccisioni non smette mai di killare e appena trova una nuova arma, appena gli arriva una nuova arma cambia e killa ancora quindi è davvero stata un'uccisione a catena continuata praticamente alla fine c'è anche un bellissimo turn on e ho pensato di premiarla dandogli il quarto posto in quanto non so, avevo potuto metterlo anche un po' più su però poi vedrete le clips che arriveranno dopo io sapete prediligo un po' quelle col cecchino non so perché secondo me sono un po' più carine comunque guardate qualche turn on che fa davvero ragazzi clip assurda quarto posto molto più che meritato complimenti Shock in terza posizione ragazzi entriamo nel podio della top 5 troviamo Skinfly che fa un trick e con il coltello prende un nemico across the map fa una killcam davvero davvero molto carina come già detto appunto era già in killcam quindi lui fa il trick e decide di chiuderla così across the map bellissimo anche abbastanza fortunato comunque bel trick soprattutto perché era in killcam in seconda posizione ragazzi torniamo su Black Ops 3 troviamo O-Otz che sta giocando con il con il Locus fa un primo fail poi fa una tripla collateral proprio easy easy veloce veloce senza pensarci due volte guardate sbaglia il nemico poi allora dice no sto cazzo ti ho sbagliato uccidiamoli tutti e tre in un colpo quindi secondo posto meritatissimo complimenti a O-Otz prima posizione ragazzi torniamo su un gioco che ieri mi ha fatto sclerare Modern Warfare 3 una kill due kill doppia collateral 5 on 5 on per due clip bellissima su Hardat l'unico piccolo dettaglio che forse erano tutti sniper come normale su zona di lancio però come vedete qua fa davvero una strage bellissima mi è piaciuta davvero molto sta clip e non so neanche se effettivamente ha fatto una tripla o una doppia collateral potrebbe quasi essere una tripla collateral è stato fatto che è una clip davvero fuori da qualsiasi mondo davvero assurda e bellissima ragazzi se la top vi è piaciuta mi raccomando lasciate un bel pollicione verso l'alto un commento scrivendomi se effettivamente vi è piaciuta iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto passate da tutti i links che trovate qua sotto in descrizione noi ci vediamo domani con un nuovo video per oggi da Milino è tutto e no scherzavo noi ci vediamo stasera con un nuovo video per oggi da Milino è tutto e bella grazie a tutti i miei